agosto mese con dio padre 23 agosto dal messaggio del padre non è vero che se aveste la conoscenza di questo padre che vi ama tutti senza distinzione e che senza distinzione vi chiama tutti con il ben nome di figli mi amereste come figli affettuosi e l'amore che mi dareste non diventerebbe sotto il mio impulso un amore attivo che si estenderebbe al resto dell'umanità che non conosce ancora questa società di cristiani e meno ancora colui che li ha creati e che il loro padre tu sei padre mio dio tu sei padre ricco di misericordia e sempre fedele nel tuo amore riconosco di aver peccato e mi pento con tutto il cuore di essermi allontanato da te donami il tuo perdono e in cristo morto e risorto rendimi partecipi della vittoria sul peccato e sul male conferti a te il mio cuore e conservalo fedele alla tua amicizia con la forza del tuo spirito amen grazie 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 grazie